I nostri avversari li conoscevamo bene, di solito sono molto aggressivi, con tutti i cinque giocatori offensivi, quindi con i tre attaccanti e i due mezzali. Probabilmente abbiamo tolto un po' di pressione loro, tenendo bene palla, aspettando che loro si muovessero per poi cercare qualche imboccata tra le linee o qualche giocata esterna. Ma è chiaro che la partita l'abbiamo condotta per quello che volevamo. Sono partite che dovresti vincere, quando giochi così meglio di un avversario così forte, purtroppo non siamo riusciti a finalizzare bene delle situazioni che potrebbero andare diversamente. Rafa credo che piaccia anche agli amanti del calcio perché tenta delle cose che non sono normali. Chiaro che se mi chiede, non sono normali per altri giocatori e lui invece tenta dei colpi d'effetto che a lui riescono e altri no. Chiaro che se mi chiede a me, ma io ero un difensore davanti alla porta, avrei spaccato la porta, poi forse tiravo fuori. Dispiace, dispiace per i ragazzi perché hanno messo in campo tutto quello che avevano e di più, perché comunque è stata una partita intensa e faticoso. Dispiace per il pubblico perché ci hanno incitato per tutta la partita e dispiace non aver vinto la prima partita del Girona perché ci sarà un Girona tosto e quindi è mancata la cosa più importante. Poi dopo è chiaro che io mi tengo tutta la prestazione che abbiamo fatto, per come abbiamo attaccato, per come abbiamo difeso, per come siamo stati energici tutta la partita. E' difficile, era importante arrivare a pareggiare almeno a livello della loro aggressività e della loro intensità, credo che l'abbiamo fatto di più di noi, di loro. Però insomma non è stata la vittoria che volevamo e si va avanti. Adesso sono tre partite di campionato importanti e poi ripenseremo alla Champions con il Dortmund. Eh bene, se potessi dividere i miei sentimenti alla pari, 33,3% sono soddisfatto della prestazione, 33,3% sono deluso che non abbiamo vinto, 33,3% sono preoccupato per le condizioni di Mike. No, ma sono giocatori importanti, sono giocatori importanti che hanno bisogno, soprattutto di nuovi arrivati, Ciucu, Yunus e Loftus, hanno bisogno comunque di giocare per conoscere bene i meccanismi della squadra, per conoscere bene i propri compagni, per conoscere bene le difficoltà, soprattutto del campione italiano. Ma hanno fatto bene, si sono fatti trovare pronti e l'occasione, se continueranno con questo atteggiamento, con questa disponibilità, con questa qualità, le occasioni ci saranno perché adesso giochiamo ogni tre giorni. E quindi è impensabile che molti giocatori possano giocare tutte le sette partite che dovremmo disputare da qua alla partita con il Genoa, quindi ho tanti giocatori e probabilmente sabato non giocheranno degli altri. Mike sicuramente domani farà delle valutazioni, quando senti qualcosa in livello muscolare, sicuramente le farà domani. Credo che sia difficile che giochi sabato, ma non lo so, perché poi dopo Mike è anche lui un po' particolare, quindi magari io spero che giochi anche sabato, ma non lo so. Sinceramente non lo so, no, Teo no. Teo prende tante botte ogni partita, Zoppica sempre a fine partita, ma domani sarà bene, credo. Spero.